Ci attesa per il nuovo incontro al Mise sulla questione Treofan fissato alle 9 di domani. Nella riunione in questione i vertici della Gindal dovrebbero comunicare alle parti quale linee di produzione potranno riprendere nello stabilimento di Battipaglia. La protesta però non si ferma. Per oggi infatti i sindacati hanno indetto due ore di sciopero con assemblea per tenere alta l'attenzione sul difficile dialogo avviato con gli indiani. Abbiamo trovato delle persone del tutto impreparate rispetto alle nostre domande e non capaci di poter dare risposte alle nostre richieste e alle nostre domande. Tanto è vero che c'è stata la riconvocazione per il giorno 11. Stiamo chiedendo e abbiamo chiesto anche in quella sede il rinvio delle resine, la ripartenza degli impianti e di conoscere il piano industriale. Il piano industriale, loro dicono di non avercelo già disponibile e parlano almeno del 24 di questo mese. Ma c'era consapevolezza di quello che sta avvenendo a Battipaglia? Ma e ti ripeto, l'atteggiamento che hanno avuto è quello proprio di ignorare totalmente la situazione. Continuare a parlare di cose sbagliate, cose inesatte. La mancanza di ordini quando sono stati loro a spostarli e continuano a spostarli. La mancanza di profitto che non è vero perché ripetiamo sempre, lo stiamo ripetendo a gran voce, che lo stabilimento è quello che ha avuto negli anni non solo un più di chiusura dei bilanci, ma sempre un trend positivo. Quindi se una volta è stato guadagnato un milione, l'anno successivo due, poi tre, poi quattro. Quindi è sempre una crescita totale. Il piano industriale, dicevamo, il 24 gennaio dovrebbe essere presentato ai lavoratori. Che cosa immagini in questo senso? Facciamo prima di dire cosa spero. Spero che mantengano il piano industriale, il nodo del piano industriale, è un nodo essenziale che loro fanno finta di dimenticare, ma che noi abbiamo ricordato e ricorderemo. Mi spiego meglio. Quando Management e Capitale ha ceduto a Gindal, con questa cessione che stiamo definendo e continuiamo a definire opaca e scura, la Treofan, ha giustificato questa cessione perché Gindal era l'unica capace di poter portare avanti questo piano industriale, che poi, fra parentesi, è un piano industriale che Managgimento e Capitale ha fatto a marzo del 2018. Quindi non è che stiamo parlando di tanti anni fa. E quindi loro, se parlano di assenza di piano industriale, come fanno finta di ignorare o ignorano o non sapevano, il fatto che si sono stati stanziati con l'accordo Corepac 10 milioni di euro su questo stabilimento, non lo so come lo dobbiamo leggere. Se effettivamente non sapevano, ci dobbiamo fare un quadro. Se effettivamente sapevano e fanno finta di non sapere, il quadro ha una valenza diversa.